... Negli studi di Abruzzo Web ci hanno raggiunto il presidente dell'Ordine degli Architetti, Gian Lorenzo Conti, provinciale dell'Aquila, benvenuto, e il nuovo presidente della federazione, che è un organo interregionale, diciamo così, che riunisce gli Ordini degli Architetti, Sandra Nibali, benvenuti a entrambi. Partiamo subito con il presidente Conti, intanto ci spiega le motivazioni di questa scelta, di questo cambio nella presidenza. Sì, allora, devo dire che questa situazione è straordinaria, cioè dopo tantissimi anni finalmente la federazione giunge all'Aquila, una federazione interregionale Abruzzo e Molise, e si è pensato che fosse un'occasione irripetibile, soprattutto per quanto riguarda i nostri iscritti. L'accumulo delle cariche non è opportuno in questo momento, perché il lavoro è tanto, sia dovuto all'attività professionale, sia dovuto al post-sisma. Quindi abbiamo pensato bene, io con Sandro Nibali, di creare una sinergia tra ordine e federazione, lavorando, come ripeto, in una specie anche di rivoluzione un po' dell'ordine, perché adesso, quest'anno, ci sarà anche il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Provinciale. Il tema principale è quello del lavoro e dei giovani. Noi sappiamo benissimo che oggi in Italia, a eccezione di questa isola, non sappiamo se è fortunata o sfortunata, che è quella del cratere dell'Aquila, non c'è lavoro. I giovani sono sbandati, seppur hanno un titolo professionale non riescono a lavorare, non sono riusciti a inserirsi sul territorio dell'Aquila, e invece noi vogliamo creare un'operazione a largo raggio, forse come spiegherà anche meglio Sandro prima, ma creando proprio una rete di relazioni e coinvolgendo tutto il territorio nazionale, probabilmente anche col Consiglio nazionale architetti, per dare opportunità di lavoro, riqualificare la figura dell'architetto, che negli ultimi anni è andata un po' a perdere immagine, e quindi approfittare, approfittare è una parola brutta, prendere l'occasione del sisma dell'Aquila per creare un'opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale. Questo è l'obiettivo principale, che poi ovviamente si raggiunge attraverso delle cose che stiamo pensando assieme, che renderemo operative nei prossimi giorni, anche a livello dei media, e speriamo che questa sia un'operazione che possa soddisfare, ripeto, non solo gli architetti appartenenti al nostro territorio, quindi all'Abruzzo, all'Aquila, eccetera, ma anche a livello nazionale. Passiamo ad Annibali, quali sono le prospettive, quali progetti ci può anticipare per l'inizio, almeno del suo mandato? Diciamo che abbiamo avuto ancora pochi incontri con i colleghi, il cui ruolo ovviamente è fondamentale, sono i rappresentanti degli ordini, ovviamente abruzzesi, quindi Teramo, Chieti, Pescara e Campobasso. Diciamo che l'idea iniziale è un po' quella che ha presentato adesso il Presidente dell'Ordine dell'Aquila, su cui sembra che siamo tutti d'accordo, e quindi partendo dall'emergenza del lavoro per i giovani professionisti, attraverso un'analisi sia delle modalità operative della stessa federazione, quindi statuto, regolamenti e via di seguito, e sia inserendoci nel dibattito nazionale che riguarda il Consiglio di Nazioni degli Architetti, come diceva Gian Lorenzo, in merito alla figura che vorremmo divenisse più centrale nel progetto dell'architetto, accompagnato da una nuova sensibilità del funzionale, la capacità di lavorare insieme, cioè a creare delle strutture più articolate, più ricche di persone, e per persone intendiamo ovviamente professionisti, e quindi abituarci a modelli, se vogliamo, già presenti in altri paesi europei e non solo. Questa capacità di lavorare insieme, sia attraverso una rete, ma anche fisicamente, nello stesso luogo, potrebbe consentire un più facile accesso alle problematiche inerenti alla professione in merito ai bandi di progettazione e requisiti richiesti, a una crescita culturale, perché ovviamente solo interagendo con gli altri si può avere uno scambio di crescita proprio sul come si fa la progettazione, e in ultimo, e chiudo, una nuova sensibilità verso i costruttori, cioè noi siamo convinti che un'interfaccia fondamentale per la nostra professione è e saranno le associazioni dei costruttori. Passiamo ad un argomento che è molto complesso, però cerchiamo di affrontarlo in sintesi. La figura dell'architetto, come è cambiato in questi quattro anni, anzi quattro anni e mezzo, quasi cinque, di post-terremoto? Cioè, che utilizzo ne è stato fatto? Devo dire che ne è stato fatto un utilizzo, se vogliamo usare questo termine, abbastanza consono alle capacità professionali che un architetto ha. Qui, già appena dopo il sisma, soprattutto noi come Ordine, abbiamo fatto una serie di informative ai nostri iscritti, proprio sollecitandoli, come diceva Pocanzi e anche Sandro, a strutturarsi in maniera diversa. Cioè, lo studio singolo, come era una volta, non aveva più senso. Bisognava creare degli studi professionali dove ci fosse l'ingegnere per la parte strutturale, l'impiantista, l'architetto per il suo ruolo, soprattutto con riferimento agli edifici vincolati, al centro storico. Da alcuni è stato seguito questo consiglio, da altri no, eccetera. E noi insistiamo su questa strada perché è soltanto una struttura che ha le capacità al proprio interno, non dico totali al 100%, ma che ha buone capacità di risolvere tutte le problematiche inerente alla progettazione post-sisma e una garanzia anche per il compitente, una garanzia per l'amministrazione pubblica, una garanzia anche per l'impresa, dove il riferimento è più immediato, più diretto. Proprio in questa ottica nuova di riforma adesso che faremo delle nostre strutture, ordine e federazione, insisteremo maggiormente a questa cosa anche con l'inserimento di soggetti che vengono da fuori e che possono trovare qui uno spazio lavorativo dignitoso per il titolo professionale che hanno. In questa prima fase della ricostruzione, ormai cinque anni, quindi diciamo una fase abbastanza organica, c'è stata una sottovalutazione degli aspetti architettonici, delle nuove costruzioni, delle riedificazioni, rispetto invece agli aspetti magari strutturali, ingegneristici? Insomma, si è avuta troppa voglia di fare le cose resistenti e magari non funzionali o anche credibili all'aspetto? La domanda è complessa, nel senso che il sisma comporta anche a livello psicologico un'attenzione a tutto ciò che riguarda la resistenza sismica, proprio a saper fronteggiare da parte del manufatto il terremoto in quanto tale. L'attenzione a quello che normalmente per architettonico si intende si porta a far coincidere con l'estetica, diciamo è stata anche un po' vincolata dalla normativa che è stata messa in campo, che ovviamente mirava a ripristinare il patrimonio edilizio esistente, quindi per quanto riguarda il vincolato, il manufatto vincolato, monumento o no che sia, è evidente che è pressoché impossibile ipotizzare cambiamenti di aspetto. Sulla periferia e su tutto ciò che è stato fatto, diciamo, sugli edifici nuovo, tanto per capirci, quindi la palazzina in cemento armato o quanto che possa essere assimilato a questo concetto, si è scelto il più delle volte di percorrere la strada che riportava al manufatto originale. Quindi, diciamo, forse un dibattito in merito proprio a questa problematica non viene pure stato. Si è andati nella direzione di ripristinare il patrimonio edilizio esistente. Forse un'occasione per fare degli interventi, diciamo, che mirassero a un cambiamento del contenitore in quanto tale, potevano essere ipotizzati. In alcuni casi sono stati anche perseguiti, ma una sensibilità vera e propria, anche da parte del committente, condominio, singolo, privato, istituzione che fosse, sotto questo punto di vista forse non vi è stato. E' anche vero che l'amore di lavoro che si è riversata sugli studi e sui progettisti è stata tale che all'inizio ha avuto bisogno più di un governo della situazione per poi entrare in un merito più squisitamente culturale. Quindi credo che da un punto di vista strutturistico, cioè strutturale e strutturistico non credo sia corretto, però diciamo si è lavorato molto ed è stato meno valutato la possibilità di apportare modifica all'apparenza, al contenitore in quanto tale. Il caso di cronaca che ci coinvolge in questi giorni chiaramente è quello della nuova inchiesta della Procura della Repubblica su presunte tangenti tra appalti e ricostruzione. La sintesi del sistema era pagare per avere dei lavori. Voi da addetti ai lavori, quindi da persone che hanno lavorato dentro il sistema della ricostruzione, che opinione vi siete fatto, soprattutto è un sistema come dicono gli inquirenti piuttosto che un caso isolato? Ma allora io sono ancora sconvolto da queste notizie di ieri, però ritengo che sia la conseguenza di un fatto che quando c'è una calamità e ci sono dei soldi in ballo eccetera, gli interessi escono fuori e ci sono gli interessi leciti e gli illeciti. Quegli illeciti sono accettabili perché possono essere legati all'imprenditoria, alla professionalità eccetera. Quando c'è dell'illecito va ostacolato e la magistratura è bene che faccia il suo compito e vada fino in fondo su queste situazioni. A noi quello che interessa è la correttezza dei nostri iscritti, la deontologia e noi già dal 7 aprile abbiamo sempre informato i nostri iscritti su tutto quello che erano le ordinanze, su tutti quelli che erano i criteri da adottare per la professione. Ora è ovvio che succedendo lavori che si fanno uno può uscire male, ci può essere l'errore, ma l'errore è un conto e il dolo è un altro. Quando non si prefigura un reato, non è già predeterminato, preintenzionale eccetera, l'errore ci può stare e è ovvio che magari chi sbaglia paghi pure quello, ma quando c'è un delitto, cioè c'è un reato già programmato, cioè quello di usufruire dei soldi pubblici per un arricchimento illecito va punito e va segnalato anche all'ordine perché noi prenderemo i nostri provvedimenti se ci sono dei casi eclatanti, dei casi accertati su queste situazioni. Con il rinnovo dell'ordine tra l'altro vogliamo anche fare un albo affiancato, cioè un albo della trasparenza, cosa che forse non l'ha fatto nessuno in questo periodo, cioè contattare i nostri iscritti, vedere i lavori che hanno fatto, in che modo hanno avuto i rapporti con le committenze, non è un'indagine di polizia ovviamente, ma è anche un resoconto di questi cinque anni ormai di attività che è particolare, che ci siamo trovati addosso dopo il sisma e che va gestito, ripeto, con un'assoluta trasparenza. Se ci sono delle situazioni di difficoltà perché qualcuno ha fatto degli errori e se ne è accorto oppure, ripeto, perché in mezzo a tantissime pratiche può succedere, anche questo noi possiamo anche stargli vicino, cercare di aggiustare, di correggere, di dare consigli, suggerimenti e robe varie. Ripeto, ma quando c'è un reato di errore saremo inflessibili. Annibali, quali sono oggi a livello tecnico le pieghe della norma in cui si può annidare l'illegalità e che cosa deve cambiare nei prossimi anni? Conoscere le pieghe mi risulta difficile, devo essere onesto. Ritengo che il professionista rappresenta una parte del percorso di ricostruzione inteso, finalizzato a un'operazione singola di carattere edile e svolge un ruolo di tradunione tra committente e esecutore, impresa, quindi diciamo si muove in quell'ambito. La provenienza del lavoro, mi sembra che l'inchiesta parli anche di come veniva acquisito il lavoro, a volte compete il professionista ma spesso e volentieri riguarda altre figure che siano i committenti o chi rappresenta i committenti o l'impresa stessa. Quindi diciamo che trovare delle pieghe sul percorso professionale dove si possa fare monetizzare in qualche modo potrebbe essere solo quello a cui lodeva Gian Lorenzo un errore di contabilità, attività professionali o un qualcosa di pianificato ma in quel caso parliamo di dolo puro e qualora venisse verificato dovrebbe essere perseguito come va fatto. Diciamo che anche in questa attività la macchina, il meccanismo che sovraintende tutta la ricostruzione comunque ha modo di verificare, cioè diciamo è pressoché impossibile al mio dire che la contabilità di un cantiere verificata e riverificata anche dagli organi delle istituzioni possa annidare una qualche attività dolosa. Per cui ritengo che l'attività del professionista eseguita comunque diciamo al 100% o parzialmente, visto le difficoltà come si svolge, difficilmente può dare possibilità di questo genere anche perché non riguarda un'unica persona, ecco non è una persona che decide e può distribuire denari come meglio crede. Sul caso di specie questa nuova inchiesta è la prima impressione a caldo che ha avuto, qual è stata quella immediata secca. Ma guardi, lì per lì ho pensato, come ha detto Gian Lorenzo, cioè in effetti girano proprio il termine, tanti denari in questa città e si annidono talmente tanti interessi e come se noi avessimo preso un territorio, una buona parte del territorio nazionale e lo avessimo costretto a lavorare in un ambito molto più ristretto. Quindi quello che può accadere diciamo in un'area vasta come il centro Italia accade in realtà nell'ambito di un territorio comunale. Quindi se ci sono dieci delitti in centro Italia è come se ne accadessero dieci in un ambito comunale. Ho fatto questo ragionamento, poi a prescindere dalle persone coinvolte. Dico che è talmente vasta l'attività che o un errore inconsapevole o consapevole o la presenza di tanto denaro così a disposizione può creare delle situazioni di questo genere. Poi altro non ho letto quello che avete pubblicato voi o quello che è scritto sui giornali. Ringraziamo Gian Lorenzo Conti, Presidente Provinciale dell'Ordine degli Architetti, ringraziamo Sandra Nibali, nuovo Presidente della Federazione e appuntamento alle prossime iniziative.